Non ce la faccio più. Forse è meglio farla per endovena. E poi, senti, ma fatela da solo. Lascia perdere, va. Tanto non è nemmeno morfina. E poi ho capito. Cos'hai capito? Ho capito che tu hai capito cosa sono. No, io non credo di aver capito. Ma sì che l'hai capito. Non fare l'ipocrita. Ma no, dai, tu mi stai prendendo per il cu... In giro? No, guarda. Che sono proprio come pensi tu. Avanti, dillo. Tanto non è mica una cosa grave, sai? Va beh, insomma, se è come penso io, un po' grave lo è. E ci sono tanti termini per dirlo. Quale vuoi usare? Omosessuale? Ricchione. Diverso. Oggi si dice diverso. O meglio, culattone. Come dite voi? E no, guarda che questa volta l'hai detto tu, eh. Sì, però tu lo pensi? Lo pensi? E vabbè, ma se me lo dici tu un po', lo penso, no? Ah, vedi che lo pensi. Va bene, lo penso, mi hai convinto. Vediamo che c'è di nuovo. Ah, la Columbo dorme, eh? Il Macaluso guarda la... La televisione privata. Sporcaccione. Allora, cosa devo fare? Me ne vado o mi picchi anche tu come quei fascisti? Ma che cosa c'entrano i fascisti? Non vorrei mica farmi litigare le due di notte, no? E poi, quando ti ho incontrato, io non ho capito che tu eri uno di quelli là. Mica cammini come loro. Perché quelli là come camminano? Eh, camminano così. E non mi dire che non camminano così. Ma... Ma quelle che dici tu sono le checche. Non tutti gli omosessuali sono checche. Hai capito? Io no.